Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Lodato, se me sia, il nome del Padre e il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Papa di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della tua morte. Così in terra. Grazie oggi nostro Padre in quotidiano, venite a noi i nostri debiti, come noi veniamo ai nostri debitori, e non ci giurre in tentazione, ma riferci dal male. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, prega per noi peccatori, e se è l'ora della nostra morte. Amo. cuore per minuter il fuoco, Gesù. Adium. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Maria di Dio, Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, bega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, bega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, bega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, bega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, bega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Poi è l'epincipio e sempre il Signore è con te. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inverno, porta in gelo tutte le anime, specialmente le più sognose della Tua misericordia. Reggida della pace, prego per noi peccatori. Nel quarto mistero doloroso, si contempla, Gesù sale al Calvario portando la croce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come un cielo così in terra. Adagio oggi il nostro pane quotidiano, che ne mette a noi i nostri debiti, come noi ne mette a noi i nostri debitori, che non ci cura in tentazione, ma libera la città di madre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre mia, prega per noi il calore. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre mia, prega per noi il calore. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi il calore. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Lodato sembri sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era il figlio, ora e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inverno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più risognose della tua misericordia. Regina della pace, prega per noi e per il nostro seno. Nel quinto mistero doloroso si contempla, Gesù muore in croce per noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.